Con la telecamera di Diego Martelli siamo a Bussi innanzi alle discariche cosiddette 2A e 2B perché oggi è una giornata importante alla commissione di inchiesta per la bonifica della discarica di Bussi e sul posto c'è stato un incontro anche con i sindaci dei comuni interessati, naturalmente con i membri della commissione con l'Arta e con le altre parti in questione e in cause, qui vicino a me ho il presidente della commissione di inchiesta il senatore Giovanni Legnini al quale chiedo subito avete appena fatto una riunione, cosa ne è venuto fuori e cosa ci può dire in merito alla bonifica di questa benedetta zona di Bussi, parlo di queste due discariche e anche della Tremonti Innanzitutto la commissione ha ritenuto unanimemente di rendersi conto direttamente della consistenza, dello stato, dei luoghi dei rischi che ancora si manifestano su questi siti così fortemente inquinati abbiamo incontrato la società chimica Bussi che è proprietaria e gestisce quella parte di questo complesso industriale ancora attiva e che per fortuna sotto la vigilanza dell'Arta, dell'Asle, dell'Inail conduce questo stabilimento in condizioni di relativa sicurezza e stiamo visionando le discariche come gli diceva 2A2B, poi andremo alla discarica Tremonti Ciò che mi impressiona è che oltre all'ampiezza e alla grande rilevanza di questo fenomeno di inquinamento e che i rischi sono incombenti, imminenti, sono attuali e che bisogna intervenire assolutamente con urgenza Per fortuna questa mattina abbiamo avuto conferma che quantomeno sotto il profilo della messa in sicurezza si procederà ulteriormente Edison procederà tenendo fede all'impegno che aveva manifestato qualche settimana fa Le chiedo i tempi per la bonifica, c'è una data importante? Noi abbiamo due decisioni imminenti che potrebbero cambiare il corso di questa vicenda e che coincideranno con la fase più avanzata dei lavori della Commissione e cioè da un lato il Ministero si accinge a un pronunciamento, lo verificheremo qual è all'esito dell'acquisizione di pareri, della valutazione della problematicità dell'avvio di questa bonifica e dall'altro, e questo forse sarà l'elemento più rilevante, il Consiglio di Stato si pronuncerà auspicabilmente in via definitiva sull'accertamento oggetto dell'ordinanza della Polizia Provinciale di Pescara della identità del soggetto inquinatore nella società Edison, come è noto se quel provvedimento di accertamento diventerà definitivo, come tutti ci auguriamo l'obbligo di disinguinare diventerà esecutivo e difficilmente la Edison potrà continuare a sottrarsi